De Fontana, l'assassinoreo confesso per l'omicidio di sua figlia, è stato ammesso al percorso di giustizia riparativa. Mi sento tradita dalla giustizia, assolutamente sì, mi sento tradita dalla giustizia. La giustizia italiana dov'è? Dov'è quello che il male che lui ha fatto? A me che sono la mamma di Keron, a mio nipotino che ha 7 anni, ma che cosa? Ma cosa? Io ho solo paura anche per altre persone, ecco, e soprattutto ho paura per me e per il mio nipotino, ecco. Io non voglio che sia libero, ecco, perché è un mostro, ma non è possibile, mi dispiace. Lui naturalmente cercherà di fare tutto quello che vuole, ma quello che ha fatto naturalmente a me ha destabilizzato in una maniera non indifferente. Per me è un'ingiustizia. Io lo che sono mostro, io mi auguro di non vederlo mai più. Per me è un'ingiustizia.